Musica Sai cos'è un farmaco equivalente? Un farmaco equivalente è un medicinale che contiene lo stesso principio attivo di un farmaco di marca esso possa servire un farmaco di riferimento noto anche come medicinale un marca originatore branded E perché usare proprio questo farmaco? Perché viene venduto ad un prezzo inferiore rispetto al farmaco di marca pur satisfacendo gli stessi requisiti normativi La versione equivalente di un farmaco può essere differente nella forma o nel colore della compressa o della capsula ma queste differenze lo vanno ad influenzare sull'effetto del farmaco Libera la mente Usa un farmaco equivalente Io Equivaldo Io valgo